Siamo venuti qua casualmente alla Baia del Sole, qua è la signora Paola, una dei gestori titolari di questo bellissimo parco, anzi complimenti per come lo tenete. Grazie. E oggi abbiamo assistito, non sto malgrado, una cosa abbastanza aggratante. Cosa è successo Paola? È successo che abbiamo scoperto un ragazzo che stava rubando la bicicletta a fatalità di mio papà e poi ci siamo accorti che stava occhieggiando anche le altre biciclette attorno. È stato rincorso, è stato preso, è stato chiamato dalla polizia, è stato fermato. Senti, ho visto che siamo fanno una curiosità, ma per caso avete avuto problemi di processionare qua su questo parco? Allora, noi problemi non abbiamo avuto né con gli animali né con i bambini, però per via cautelativa, perché anche noi abbiamo dei pini nel giardino, abbiamo provveduto a fare la disinfestazione. Ok, e sto tornando al ragazzo, l'avete già visto altre volte? Qua sei... Qua no, però dicono che in pista rosa gira più di qua. Quindi cosa è successo? In pratica io stavo andando nell'Usenso verso la pista rosa e a un certo punto una persona con il collare, appunto era in bici elettrica, e questo qui con il collare aveva anche uno zainetto. Mi ha fermato dicendomi, ehi ciao amico, amico, fermati. E a un certo punto sono passate altre biciclette, lui si è fermato e ha detto io vado in spiaggia, ciao ciao. Ma ti ha fatto qualche cosa di violenza? Cioè, che abbia fatto così è una cosa? Ti ha fatto qualcosa di particolare, cioè ha cercato di fermarti? Sì, ha cercato di fermarmi, si è messo in mezzo alla strada e apriva le mani e diceva fermo, 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 fermo. E io ho risultato. Ma tu hai visto che prima hai cercato di fermarti? Sì, la bicicletta, sì. No, eh, vieni, 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 vieni. Vieni, putzana, bravo io. Come ti sei accorto che rubavi la bicicletta? No, io ero dentro che mi mangiava gelato. E' venuta una signora, è venuta a dire ma è tua quella bicicletta che stanno rubando? Perché non sapeva se è la sua o non sua. E praticamente l'abbiamo visto qua, sono corso fuori, l'ho fermato, dopo il padrone, la bicicletta l'ha fatta portare indietro. Va bene, grazie. Insomma, l'individuo che vedete, oltre a aver cercato di fermare un ragazzino, oltre a aver cercato di fregare due biciclette lì a Baglia del Sole, e per poco stavo per subire la reazione decisa di alcuni genitori, ma evidentemente a Chioggia e Chioggioti sono molto più educati i civili di quanto si possa credere, e pare il colmo dei colmi, sembra che questa persona sia lo stesso individuo che circa un mese fa ha rapinato Don Mario Guiton della parrocchia di Bruno San Giovanni e gli aveva rubato la macchina che poi è andata distrutta. Se fosse così, c'è veramente da essere allibiti per quello che sta succedendo in Italia.